L'inizio è assolutamente doveroso, ovvero La stanza del figlio. L'ho definito uno dei film più oscuri di Nanni Moretti, secondo me. Questo è un giudizio personale, ma molto intenso. La storia, forse la conoscete, è quella di una famiglia borghese, anconetana, comunque girato e ambientato da Ancona, quindi nella provincia, diciamo così, quindi non a Roma, neanche in una grande città come Milano o Firenze. E c'è un lutto, un lutto tragico, drammatico, improvviso, credo se non ricordo male, un incidente. E muore il figlio di questa famiglia, composta dal punto di vista degli attori, da Nanni Moretti e Laura Morante, e poi Gesmin Trinca e il ragazzo che non ricordo come si chiama. Giuseppe San Felice, che in effetti io non avevo mai fantasticato sull'idea di poter, ma neanche diventare un'attrice, frequentare un corso di teatro a scuola. Cioè, era una situazione che mi metteva piuttosto in imbarazzo, e quindi sfuggivo, e piuttosto, infatti facevo pallacanestro io a scuola. Era il penultimo anno del liceo, quando venne Moretti, insomma, passò questo avviso, che sarebbe venuto Moretti per cercare due ragazzi. Io che allora ero già maggiorenne, quindi mi fermavo da sola l'autorizzazione, ho detto, mi sono detta, mi fa molta curiosità, no, l'incontro con quest'uomo, e quindi ci vado, perché voglio conoscere lui. Quando poi feci il primo incontro con Nanni in ufficio, non fu affatto una cosa così ortodossa, perché non ci fu un provino, lui mi fece queste domande, no, tipo, avevo appena votato, perché avevo 19 anni, quindi, chi hai votato alle prime elezioni? Poi mi chiese, fai qualche sport? Che sport fai? E io lì, non sapendo nulla della storia, dissi, vabbè, io gioco a pallacanestro, però comunque ho giocato anche un po' a pallannuoto. E dunque mi sparai la carta del basket, quella della pallannuoto lui non ci credette affatto, e insomma, non so, qualcosa deve essere successo, e poi mi chiamava Cesira. Il film di Nanni ha durato dei mesi, quindi non due mesi, ma mesi, 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 io ho fatto tutta la maturità sul treno Romancona, continuo ad andare avanti e indietro. Perché avete girato d'estate? No, no, abbiamo girato durante l'anno, quindi io ho fatto tutto l'ultimo anno facendo avanti e indietro. Ciao! Ciao! Perché sei qui? Mi facevo dicere, venite a prendere. Quale è la nostra mia o le altre? Prima di andare, volevo fare 10 minuti di sedito. 10 di sedito? Beh, però non mi sembra serata. Mi ha mandato mamma? Mi ha mandato mamma? Perché? Perché non è che adesso non c'è da preoccuparvi veramente. Moretti ha un'idea di perfezione, ed è un perfezionista di tale entità che, questa quale è la leggenda, si arrivi a girare una sequenza decine di volte e gli attori, adesso tu dimmi se è così o meno, perché hai fatto anche altre cose con lui, non riescono a distinguere la differenza tra l'uno e l'altro. E comunque, quando uno fa 30 volte o dice 30 volte una battuta, poi come funziona? È proprio un mistero questo. Mi ricordo questo primo giorno di riprese e comunque inizia la giornata e la giornata prosegue e la giornata prosegue e un macchinista a un certo punto mi si avvicina e mi fa coraggio, ragazzi. Credo che uno dei motivi poi della scelta di Nanni rispetto a me, che non si poteva basare su un talento, che insomma non c'era, viene un po' da questo. Cioè dall'idea che gli attori che lui cercava per questo film fossero delle persone con un vissuto, non necessariamente così di identità rispetto alla storia, ma con qualcosa che fosse stato già così profondo o di riflessione nella loro vita. Il secondo film che abbiamo messo nella nostra scaletta, ovvero La Meglio Gioventù, un film notissimo, Grazie a tutti.